buongiorno ringrazio il presidente della camera per la sua partecipazione anche per l'ospitalità credo che il tema che affrontiamo oggi sia un tema particolarmente rilevante un crimine odioso avvertito davvero come una piaga sociale l'abbiamo sentito anche dalle parole del presidente ed è un crimine che possiamo combattere soltanto se lavoriamo insieme con una comunione di analisi di intenti di azioni ringrazio il commissario cardona per l'impegno anche profuso nell'organizzazione di questa giornata e anche per la passione con la quale svolge questo compito e davvero si dedica moltissimo è un ringraziamento particolare a tutti i presenti perché la vostra presenza oggi testimonia quanto il tema abbia rilevanza e quanta sensibilità in effetti e attenzione ci sia da parte di tutti voi episodi delittuosi riconducibili alla violenza di genere continuano purtroppo prepotentemente in questo periodo e soprattutto io devo dire che nel mese di settembre se andiamo a confrontare i dati in questi primi giorni di settembre davvero c'è un aumento incredibile leggiamo tutti i giorni quindi sulle pagine di giornali episodi drammatici come questi ho qua dei dati l'aveva già riportati il presidente fico ma agosto e settembre 11 femminicibi di 8 dei quali per mano del coniuge o comunque da persona legata alla vittima da una relazione affettiva quindi se andiamo a vedere poi nel periodo compreso tra l'inizio di quest'anno e lo scorso 31 agosto gli omicidi ecco sono si vede proprio che sono schizzati perché sono 75 su un totale di 185 182 quindi devo dire che purtroppo le normativa che attualmente c'è e noi sappiamo che tanto abbiamo lavorato su questi aspetti perché iniziando da quella che era la convenzione di Istanbul che noi come paese l'abbiamo sottoscritta proprio con l'obiettivo di assicurare protezione alle donne contro ogni forma di violenza e superare le discriminazioni di genere ed è stato fatto proprio per dell'ottica della prevenzione del contrasto di questo crimine odioso ricordiamoci anche i protocolli il codice rosa il codice rosso che noi abbiamo cercato di riportare avanti ma quello che in effetti secondo me su cui bisogna lavorare ulteriormente è combattere quella cultura della violenza della eh quella che affonda le proprie eh radici eh in una eh in un'organizzazione anche patriarcale eh della società e e quindi su questo il fatto che la donna ancora eh non abbia eh sia considerata un poco da parte di alcuni secondo la cultura di alcuni come una cosa propria fa sì che e poi eh abbiamo visto di recente proprio abbiamo tra è un caso un po' diverso ma se andiamo a considerare il caso della di quella giovane pakistana Saman quindi ci rendiamo conto di come la la situazione eh negli altri paesi eh è ancora diciamo ancora peggio quindi là ci sarebbe da dire da fare un discorso forse forse da organizzare un convegno ad hoc su quei temi e quindi noi dobbiamo affrontare il tema ragionando anche con tutti gli attori della società delle istituzioni eh anche con riferimento alla scuola perché è anche molto una questione di di cultura e quindi partendo proprio da un'analisi condivisa del del fenomeno eh dobbiamo porre in campo delle politiche dirette alla sensibilizzazione al riconoscimento delle delle pari opportunità eh tra uomini e donne nella vita pubblica come nella vita privata che consentano appunto di superare eh tutti quei fattori di discriminazione ma anche di minimizzazione di quelli che sono comportamenti che tante volte vengono messi eh eh in in essere su questo il eh ministro Bonetti la ministra Bonetti eh sta operando c'ha molta attenzione e lavoriamo anche insieme anche su ipotesi normative eh che diano sostegno eh alle donne ma su questo poi arriverò dopo eh e quindi bisogna che ogni iniziativa eh tenda ad aumentare il livello anche di di consapevolezza sulle radici strutturali sulle cause le conseguenze quindi cruciale quello come dicevo prima è il ruolo della scuola perché eh occorre diffondere tra le giovani generazioni modelli comportamentali basati sul riconoscimento della parità eh di sessi sul sui principi di reciproco rispetto e anche eh sul principio che dovrebbe essere un punto fermo della soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti anche interpersonali. Eh numerose sono le eh iniziative di sensibilizzazione che il Ministero dell'Interno ehm anche in collaborazione con le scuole sta portando avanti. Ricordo anche la campagna della Polizia di Stato contro la violenza eh di genere questo non è amore eh che fu avviato nel duemila e sedici facemmo appunto un filmato e poi da quello proprio il giorno delle 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 donne l'otto di marzo lanciamo questo filmato e poi eh da quello ha avuto inizio tutta una serie di di attività che vede le questure eh impegnate con il coinvolgimento di personale specializzato in attività appunto di informazione sensibilizzazione attraverso un approccio attento eh anche per favorire l'emersione dalla situazione di violenza. Richiamo anche l'altra campagna della Polizia di Stato campagna sicurezza vera avviata appunto appunto in collaborazione con la Fipe eh Confcommercio e con il gruppo di donne imprenditrici di Fipe Confcommercio sempre finalizzata eh attraverso incontri convegni a raggiungere sempre in maniera più capillare eh le donne possibili vittime di violenza e comunque l'opinione pubblica in generale perché molto conta anche quello molto conta anche quella che l'attività dei media come a livello informativo e di divulgazione di di questi di anche delle attività che si possono fare per evitare poi eh questi crimini. Ehm vorrei dire anche che la violenza eh di genere è un fenomeno caratterizzato da comportamenti contraddittori eh spesso da parte delle persone coinvolte perché le vittime non sempre denunciano e tante volte tendono a giustificare i comportamenti aggressivi dei partner o ex partner quindi è necessario assolutamente anticipare il più possibile la soglia della prevenzione ehm anche in quei casi in cui non vi siano eh palesi eh palese con condotte criminali riconducibili ai cosiddetti reati spia evitando di far rientrare ehm tali vicende nell'alveo della eh composizione di privati di sidi. Ecco quando eh si arriva a questo vuol dire minimizzare il fenomeno e non seguirlo e quindi poi alla fine arrivare là dove non si dovrebbe. Quindi il ricorso al componimento è spesso eh ridicevo controproducente perché ehm fa sì che poi tante volte le forze di polizia non possano intervenire come dovuto e noi proprio mh abbiamo dato specifiche indicazioni anche alle questure eh sempre nell'ottica di anticipazione della soglia di prevenzione e per favorire appunto le l'emersione degli episodi di di violenza. Così abbiamo per esempio sì ci abbiamo un protocollo il protocollo EVA ormai eh eh è da è da tempo che codifica le modalità di intervento delle forze di polizia nel caso appunto di liti in famiglia ehm abbiamo anche la possibilità eh di collaborare con gli istituti penitenziari perché con le direzioni appunto degli istituti di pena proprio presenti sul territorio per essere informati anche con congruo anticipo sulla data di scarcerazione dei detenuti ehm per i cosiddetti reati spia proprio per rafforzare eh il livello di tutela della della donna della vittima e di eh prevenire ehm possibili recidive. Eh dobbiamo dire anche che presso le questure noi abbiamo mh istituito delle eh delle stanze un po' dove le donne possano sentirsi rassicurate e soprattutto ehm siano protette e e abbiano la possibilità di parlare con maggiore eh diciamo eh intervenendo questo anche a Milano l'avevamo di intervenendo e raccontando quello eh quello che purtroppo tante volte succede che eh vogliono e che tendono a nascondere che quello proprio con nostro personale specializzato facciamo sì che proprio alla fine si arrivi a a a convincere la donna che è sempre meglio eh rivolgersi alle forze di polizia eh e raccontare quello che che succede. Eh abbiamo tra l'altro in questo periodo di di lockdown è stato un periodo terribile per tutti ma voi immaginate vivere eh in appartamenti talora eh anche non grandi eh tutta la famiglia eh intere giornate a casa e allora noi abbiamo in quel frangente mh abbiamo eh fatto un'app della Polizia di Stato UPUL che mh in effetti serve per contrastare eh il bullismo oppure anche eh per indicazioni di spaccio di stupefacenti nelle nelle scuole ma anche per le donne che stando a casa o anche minori che potevano essere oggetto di eh di di maltrattamenti in famiglia con un click potevano ecco collegarsi e con la geroreferenzazione essere individuata la zona dove stavano e quindi con l'intervento immediato delle forze di polizia. Quindi mh voglio dire poi che eh molte questure hanno sottoscritto anche protocolli con servizi sociali sanitari attraverso i quali quindi accompagnare anche gli autori di violenza in un percorso di riconoscimento della propria responsabilità e proprio di attuazione di strategie per il controllo degli stimoli violenti. Eh questo eh devo dire questo centro che eh noi abbiamo anche eh visitato a Milano è importante perché mh se parliamo del per esempio del bullismo eh proprio quelli che sono i bulli alla fine diventano loro stessi ehm diciamo eh insegnanti nei confronti dei bulli che vengono dopo eh per far comprendere come quel tipo di comportamento sia sbagliato quindi è importantissimo che quello che il bullo poi diventa diciamo va dall'altra parte della barricata e quindi vuol dire è un'attività formativa è un percorso che si fa ed è molto importante perché vuol dire proprio arrivare alla psicologia della persona nel senso di fargli cambiare anche le la modalità di di pensiero e quindi ritengo che questo è un modo per controllare anche gli stimoli violenti che tante volte eh vengono e che poi purtroppo determinano quello che noi sappiamo. Quindi ehm ritengo quindi che ehm essenziale eh tra l'altro la realizzazione di una rete di integrata di servizi specializzati eh di protezione e assistenza che possa appunto incoraggiare ad accompagnare la donna nel suo percorso di denuncia e anche emancipazione dalla violenza e agli interventi di assistenza devono affiancarsi eh quelli che sono interventi lo diciamo prima di sostegno eh orientamento perché possano essere restituite alla vittima dignità e piena autonomia. Eh infatti eh su questo ehm molto importante anche la previsione introdotta in una dalla legge centoventidue dalla corrisponzione di un indennizio ehm da parte dello Stato eh su questo so che ne parlerà anche ehm i relatori eh ne parleranno di questo perché probabilmente anche su questo si può pensare a un intervento eh migliorativo di sostegno. Ehm eh vorrei dire che nel duemila e venti sono stati erogati indennizi a favore del fondo eh in favore delle vittime pari a eh tre milioni seicentocinquantamila euro circa e di cui un milione e centoquaranta per femminicidi. Quindi eh è abbastanza eh importante l'impegno ma certamente credo che possiamo fare meglio da questo punto di vista perché eh c'è bisogno eh di sostegno psicologico ma anche di un sostegno eh concreto che possa consentire poi di superare momenti di difficoltà. Eh quindi eh ripeto che eh quelle che sono secondo me l'esigenza prioritaria eh ne parleranno anche eh il procuratore Roia e altri relatori ma io credo che una delle esigenze sia di ripensare le misure di prevenzione personale. Eh ci si potrà orientare per esempio verso un'estensione eh mirata dell'arresto obbligatorio in flagranza, l'introduzione di una eh specifica disciplina del fermo di indiziati di delitto, ovvero prevedere anche la segnalazione al prefetto del procedimento avviato per alcuni delitti ai fini proprio dell'adozione e delle ulteriori misure. Eh per altro verso dicevamo che la tutela delle vittime potrebbe anche avvalersi proprio di questo un indennizio che sia più sostanzioso da attribuire alla vittima, alla sua famiglia come nel caso raccontato dal commissario Cardona eh del padre che non ha alcun indennizio pur andando tutti i giorni a trovare la figlia quindi fa un viaggio tutti i giorni e non ha e a lui non è nulla riconosciuto indipendentemente dal giudizio nei confronti del presunto reo in caso di di necessità economica. Si tratta ovviamente di ipotesi normative eh che eh come ministero dell'interno abbiamo predisposto che ehm sono adesso verranno mandate alla ministra eh per le pari opportunità alla ministra della giustizia perché trattandosi anche di norme di carattere penale ovvio che vadano eh necessario che vengano condivise però eh un po' questa è la linea eh che ha eh che noi abbiamo che io ho come ministero dell'interno perché ehm ritengo che sia davvero eh un crimine che negli anni eh visto che siamo nel 2022 quasi eh occorre ripeto interventi precisi puntuali perché eh soprattutto da un punto di vista culturali io do molto importanza a quello che sono ehm interventi nelle scuole perché poi i giovani d'oggi saranno gli uomini di domani e quindi se non iniziamo ora eh già lo stiamo facendo ma in maniera sempre più convinta io credo che purtroppo è un fenomeno che ci ritroveremo che io secondo me anche il fatto che ci sia stato un aumento esponenziale del numero è perché io lo lo addebito anche al fatto della del di questo periodo di di pandemia di di questo periodo di essere eh tutti insieme costretti eh in un eh a vivere la quotidianità è un momento di difficoltà per tutti quindi probabilmente va va vista in un'ottica eh generale di interventi normativi ma anche di interventi sulla cultura eh dei ragazzi. Grazie. Applausi Grazie. Grazie. Grazie ministro eh per.